Sempre all'interno del palazzo Pinelli Pignatelli vi è una mostra delle più celebri radio d'epoca del tempo. Oltre a speaker di design particolari degli anni venti, delle marche Safar, Fonola, Magnanide, Telefunken, Radio Marelli, sono esposti ben più di un centinaio di ricevitori provenienti da varie nazioni. Oltre alla sala dedicata alle radio vi è poi un'altra adiacente dedicata questa volta al celebre Guglielmo Marconi, celebrato con un busto di bronzo. Qui è stata allestita una stazione telegrafica con varie strumentazioni scientifiche. quali il classico rocchetto di Rumkorf e la macchina conduttrice di scintille di Wimst.